Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 chiuso il tratto traversile a massa in direzione Genova e quello tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano in direzione Sud. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. Sulla Fipili in direzione Firenze rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Lastra e Scandici e per lavori code tra Ponte del Est e Montopoli-Valdarno. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori rallentamenti all'altezza di Castelnuovo-Berardenga e di Rapolano-Terme. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!